Leonardo Silva Revisore Credo che il mondo intero questa notte si è fermato davanti a una persona che ha lasciato un segno così importante nella nostra storia recente. Un uomo che ha combattuto per i diritti di tutti. Lo avete sentito, quel discorso che avete sentito registrato e il discorso che lui fece davanti ai giudici quando lo stavano condannando all'ergastolo. E la sua statura gli permise un discorso così alto che è entrato nella storia. Nelson Mandela non è stato soltanto un grande politico, un grande uomo che ha combattuto per i diritti umani. Vorrei ricordare anche che negli ultimi anni è stato l'uomo che ha portato l'attenzione di tutto il mondo sulla piaga dell'AIDS in Africa. E la sua battaglia è rimasta qualcosa di storico e di importante ed ha contribuito fortemente a elevare la qualità della risposta in quel continente così immartoriato. Se mi sembrava giusto, in tre giorni così importante, iniziare ricordando Nelson Mandela. Proprio perché sia di ispirazione per tutti noi, per ciascuno di noi, nel momento in cui ci rimbocchiamo le maniche e ci accingiamo a servire le nostre comunità così come facciamo e fate quotidianamente all'interno delle vostre. Queste sono le figure che dobbiamo portare dentro di noi come esempio essere capaci di metabolizzare il loro messaggio. C'è un altro tributo, però, che oggi vorrei rendere insieme a voi. È un tributo che in parte lo facciamo a noi stessi, però se c'è Francesco Gallistru, se si può alzare un attimo, io vorrei salutare il Presidente, l'avevo visto prima, il Presidente regionale della Sardegna. Io ho ricevuto una lettera ieri mattina che voglio condividere con voi, perché mi sembra il modo migliore per iniziare. Mi ha scritto il Sindaco di Olbia, inaspettatamente, ieri mattina. Avevamo bisogno di aiuto e al nostro grido disperato ha risposto la Croce Rossa. Finché non lo si prova davvero, non ci si crede. La Croce Rossa è dovunque ed agisce per chiunque tenda la mano per richiedere aiuto a 360 gradi. Il personale di Croce Rossa sul campo ci ha insegnato molto in questo frangente ed ha contribuito a farci trarre da questa tragedia immane un insegnamento notevole che speriamo possa contribuire a dare frutti buoni e sani per continuare ad aiutare la nostra gente. Stiamo parlando di grande professionalità, polso fermo dei coordinatori e degli uomini e delle donne che hanno lavorato senza sosta, senza guardare il tempo trascorso al lavoro, senza chiedere nulla in cambio, col sorriso sulle labbra, motivati dalla volontà di portare un rapido aiuto alle popolazioni. Questi sono i suoi uomini, dei quali sono sicuro lei va da fieri almeno quanto me, che ho avuto il piacere di incontrarli in un contesto così nefasto. Questo è il tributo più bello che potevamo ricevere. Sono l'occasione per inserirmi nel dire che sono stati raccolti quasi 5 milioni di euro per la Sardegna, quindi credo che abbiano riconosciuto i cittadini italiani l'importanza dell'aiuto umanitario di Croce Rossa. È stato un lavoro straordinario quello che è stato fatto, probabilmente meno visibile rispetto a altre occasioni, però questo lo rende ancora più prezioso, perché quando non si è sotto i riflettori, quando non si è sotto l'attenzione dei media, per molti è difficile dare il meglio. Noi invece continuiamo, continuiamo silenziosamente. Pensavo prima, quando ho incontrato il Sdaccordo e il Comitato Internazionale, poi dopo lo ascolteremo insieme, al lavoro silenzioso che fanno tanti operatori umanitari del Comitato Internazionale in tantissimi conflitti dimenticati. I media non se ne ricordano così come dopo pochissimi giorni si sono dimenticati della Sardegna. Eppure ieri sera il sindaco mi diceva di quanto bisogno ancora c'è e ce ne sarà ancora per tantissimo tempo per quello che è avvenuto. Questo è quello di cui dobbiamo andare orgogliosi. Ci sono tanti motivi dopo 150 anni di storia, come ha ricordato Maurizio, di cui andare orgogliosi. Però questo è un momento anche di grande riflessione. È inutile nascondercelo. Domani mi incontrerò con i presidenti, parleremo della nuova sfida legislativa, parleremo di quello che ci attende nei prossimi mesi come adempimenti per poter rispondere a questa sfida così importante che ci vede finalmente andare incontro a una Croce Rossa più indipendente, più capace di essere vicina alle proprie comunità, più vicina a creare comunità resilienti realmente, ovvero comunità che sono capaci di rispondere ai propri bisogni in maniera autonoma e indipendente e non dipendere sempre da qualcun altro. perché questo deve essere il nostro primo obiettivo. Io, devo dire, quando ho accettato questa sfida, ho riflettuto a lungo, ne ho raccolte tante da quando sono arrivato in Croce Rossa, però ho ritenuto una cosa fondamentale e l'ho fatto perché credo fermamente nel valore della formazione. La formazione è un elemento essenziale, la formazione è il cuore della Croce Rossa. E ridi un A. E ridi un A. Nella settima edizione del souvenir di Solferino che abbiamo presentato pochi giorni fa al Comitato Centrale in un'iniziativa straordinaria e bellissima del Comitato Regionale del Lazio che è andata insieme all'Ufficio Storico della Croce Rossa italiana a riprendere questa edizione di un A. maturo, di un A. che ha questa sua capacità di visione così straordinaria, nell'ultima pagina ci dice una cosa importante, una cosa fondamentale che i volontari della Croce Rossa italiana trasmettono e hanno dentro di sé, ma è bene ricordarlo perché ogni tanto anche tra di noi qualcuno si perde. Quello che ci dice di un A è che probabilmente davanti a un conflitto, davanti a un disastro naturale, Patrizia lo ricordava adesso, abbiamo raccolto 5 milioni di euro, dice i soldi quando c'è un disastro la carità umana c'è sempre. Quello che non deve mai mancare è la formazione. Guardate cosa ci dice più di cento anni fa il nostro fondatore. Vederci insieme, decidere di passare tre giorni insieme per fare formazione in maniera diversa. Voi mi avete sentito più volte parlare di macismo solidale, lo sapete, a me piace provocare. Cioè di un esercizio muscolare in cui sono bravo a defibrillare, sono bravo a compiere tutte le manovre di primo soccorso, ma perché porto questo emblema? Quali sono le sfide che mi porta la mia comunità e che io devo affrontare e per le quali vale la pena che io sia così bravo a defibrillare? Questo è il tema. Non basta saper montare una tenda in pochi secondi. Occorre comprendere in che contesto ci stiamo muovendo. Quali sono le sfide che il nostro paese in questo momento sta vivendo e sta affrontando. Quando io mi sono preso la responsabilità dopo l'esperienza dell'Aquila, un'esperienza straordinaria, un'esperienza che ci ha lasciato nel cuore tantissimo. Abbiamo fatto un lavoro insieme a Maria Teresa Letta e tutti i volontari dell'Aquila, i volontari abruzzesi, che è rimasto nel cuore dell'Italia. Però lì io ho notato una cosa in quei giorni. Quanto era importante lavorare non per componente, ma lavorare con la capacità forte di stare insieme con un obiettivo chiaro. Questo era l'elemento fondante. E mi sono reso conto che in realtà all'interno delle componenti che erano nate in un contesto storico diverso, si erano nel tempo anidate tutta una serie di sacche di negatività che non consentivano alla Croce Rossa quello slancio e quell'azione che erano necessarie. e bisognava fare qualcosa perché diversamente i presidenti erano ingessati. Ho quindi accettato e mi sono caricato il peso e la responsabilità che sento ancora oggi forte di quel passaggio così importante. Io ringrazio sempre Roberto Antonini e Rosario Valastro e gli altri vertici delle componenti che mi hanno aiutato in questo passaggio così delicato. Non tutti per carità, alcuni a livello territoriale magari non erano così entusiasti all'idea di perdere la poltrona, però la maggior parte in realtà hanno avuto un'attenzione forte, una curiosità intellettuale che ci ha portato a lavorare per aree. Però fin da subito i volontari, tutti voi, vi siete dimostrati ancora più avanti perché poco dopo avete detto bene, ora abbiamo le aree, le abbiamo create perché comunque ricalcassero quelli che sono i carismi del cuore sull'onda del cuore erano nate le componenti, le componenti non erano nate malate, attenzione, erano uno strumento importante per rispondere alla vocazione individuale di ciascun volontario perché ciascuno di noi porta con sé un'attenzione particolare rispetto alla quale si vuole mettere in gioco. Ma questo non bastava più, non bastava più perché ci siamo resi conto che anche all'interno delle aree occorrono dei momenti in cui mecciare, in cui si deve avere la capacità di mettersi insieme perché non è che l'area sanitaria non dialoga con l'area sociale o i giovani sono un qualcosa a parte o il diritto internazionale umanitario è soltanto una scienza astratta. Serve che ci sia chi coltivi sotto un profilo tecnico questi elementi ma servono e con questo salto noi salteremo fino al prossimo evento del prossimo anno dei momenti in cui ci si trova, ci si ritrova, ci si confronta sui temi su cui siamo impegnati. Questo è il dato di fatto. Questo è Jump 2013. Non altro. La volontà di stare insieme, confrontarci, crescere e consentitemelo, cominciare anche ad aprirci all'esterno. Non è un caso che abbiamo chiamato oggi dei relatori all'esterno e domani all'interno dei workshop ne troverete tanti altri. L'altra cosa che la Croce Rossa deve cominciare a fare in molte comunità locali già si fa ma lo dobbiamo saper fare sempre di più in maniera strutturata è saper fare rete, saper dialogare con le altre realtà. Noi siamo consapevoli di portare un valore aggiunto ovunque però se non siamo capaci di dialogare con le altre realtà non andiamo da nessuna parte. Lo abbiamo appreso all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Civile dove lavoriamo con tantissime altre realtà con successo e soddisfazione. È importante farlo e farlo sempre di più e meglio nell'area sociale. È importante farlo e farlo bene anche nell'area sanitaria. Voi sapete che io ho avviato un dialogo importante con il Presidente nazionale delle ANPAS un pochino più difficile lo confesso con il Presidente delle Misericordie ma ci arriveremo anche lì perché la formazione del soccorritore è un tema comune, ad esempio. Il dialogo con le regioni è un tema comune e se vogliamo rafforzare il sistema del volontariato ciascuno con il suo carisma e noi con il nostro essere croce rossa dobbiamo saper dialogare anche con le altre realtà che sono interlocutori istituzionali e non soltanto a volte inseguire come tante volte è accaduto nel passato. Queste sono le sfide a cui siamo chiamati. Siamo chiamati molti di voi, sono sicuro la stragrande maggioranza ha letto il decreto di riforma siamo chiamati e diventiamo un organismo referente per la formazione all'interno delle nostre regioni. Cosa vuol dire entrare nel circuito della formazione? Come si gestiscono i percorsi di formazione? Tutto questo sono temi su cui dobbiamo saper crescere insieme. Dobbiamo formare una classe dirigente della Croce Rossa che sappia affrontare questi temi. L'emozione di oggi non nasce tanto dal fatto che siamo insieme tante volte ci siamo vissi. Vi confesso che l'emozione nasce dal fatto che per la prima volta con tantissimi di voi ci vediamo per parlare di Croce Rossa perché in tante assemblee che abbiamo fatto purtroppo abbiamo dovuto parlare dei disastri che abbiamo ereditato e quindi abbiamo fatto assemblee faticose urlate nervose perché? Perché eravamo affogati dai debiti presi dagli scandali presi da tante negatività che dovevamo risolvere sulle quali ci dovevamo rimboccare le mani che lo abbiamo fatto per arrivare a oggi. Oggi è il giorno in cui se vogliamo tutti insieme possiamo cominciare una nuova storia della Croce Rossa mettendo alle spalle un passato così difficile. Con i presidenti questo domani lo affronteremo lo affronteremo nel dettaglio perché ci sono legittime preoccupazioni ansie e aspettative alle quali domani daremo delle risposte o tenteremo di darle insieme sapendo che la sfida è possibile sapendo che come siamo usciti dal pantano in cui ci siamo ritrovati è possibile affrontare questa sfida che invece presenta soltanto tratti entusiasmanti se la possiamo guardare dal lato giusto. Siamo iniziando una strada nuova una strada in cui siamo protagonisti una strada in cui anche le grandi realtà le grandi aziende tornano a cercarci per vederci come loro partner una strada nella quale mai più nessun volontario si dovrà vergognare perché qualcuno ha truccato gli appalti o perché qualcuno perché quelle persone le abbiamo mandate in galera. È stato un cammino difficilissimo vi confesso che a volte ed era anche mio dovere anche perché in quel momento io ero un commissario quindi era mio dovere anche sentirlo tutto su di me quel peso. Oggi come presidente se mi consentite sento proprio la necessità a volte di dover condividere alcuni passaggi così importanti e così delicati però io credo che la sfida culturale sia quella più entusiasmante sia quella sulla quale dobbiamo essere pronti a metterci in gioco. Io quando incontro i presidenti i presidenti regionali periodicamente sento che c'è questa volontà è ovvio che abbiamo un quadro normativo che è particolarmente impegnativo abbiamo un quadro normativo che ci vedrà i primi tre mesi del 2014 impegnati in tutta una serie di adempimenti però se sapremo insieme affrontare quella fase se sapremo ritrovare quella coesione quella strada che io credo abbia avuto la massima sintesi in Solferino molti di voi che hanno partecipato mi riferisco in particolar modo ai presidenti sanno che ci sono stati in un cammino così importante come era quello della scrittura del nuovo statuto anche dei momenti di legittima tensione in quello che era un divenire e però alla fine Solferino è stato proprio il momento in cui quest'anima unica di Croce Rossa si è sintetizzata è stato un momento meraviglioso io ringrazio della loro presenza il generale Lupini e Monica D'Aluce per questo proprio perché dimostrano con la loro presenza con la loro attenzione e con il lavoro che viene fatto tutti insieme che Croce Rossa è una questo va detto con chiarezza nessuno ha intenzione di lasciare la strada ausiliaria non consentiremo delle norme ci privino di quella che è una caratteristica ontologica della realtà di Croce Rossa essere ausiliari dei pubblici poteri è una caratteristica connessa all'esistenza stessa di una società nazionale di Croce Rossa e la loro presenza per noi oggi è fondamentale sono particolarmente felice due volte perché sia l'ispettrice nazionale del corpo delle infermieri valontari sia l'ispettore nazionale del corpo militare Gabriele Lupini hanno insieme accettato a loro volta una sfida che si sono dati se vogliamo reciprocamente quella di arrivare a un'unica componente ausiliaria a un'unica realtà ausiliaria visto che comunque siamo nel 2014 e i grembiuli neri e i grembiuli bianchi in Italia li mettevano negli anni 50 oggi anche i paracadutisti hanno le donne al loro interno anche i gradatieri hanno le donne al loro interno non vediamo perché noi si debba avere due componenti ausiliari e senza perdere tradizioni senza perdere tradizioni e identità senza perdere tradizioni e identità questo è qualcosa che ci portiamo dentro i nostri 150 anni di storia non è un tratto legislativo soprattutto se siamo capaci di essere interlocutori perché l'altro aspetto finalmente importante che io ho vissuto negli ultimi mesi e che è la cosa più faticosa forse ma anche qua si è fatta unità è che non c'è più la rincorsa al politico questo è uno dei temi che credetemi a volte affatica chi si trova al vertice ciascuno tira il politico di turno per la giacchetta e quando si tratta di andare a discutere le riforme della Croce Rossa è sempre difficile perché ciascuno va dal suo amico in Parlamento e cerca di tirar fuori una riforma anche su questo io ho visto una maturazione in questo percorso e che invece si è tradotta in un lavoro corale che ha portato dei risultati e se sapremo continuare con questa capacità di lavorare insieme di fare lobby quando serve ma di farlo per il bene dell'associazione a cui tutti noi teniamo e mi hanno fatto molto piacere le parole di Maurizio Menarini che ringrazio ancora una volta quando ha detto l'associazione della Croce Rossa italiana l'associazione della Croce Rossa italiana l'associazione della Croce Rossa italiana basta con l'ente basta con l'ente l'ente ha lasciato troppe scorie occorre tornare a essere associazione fino in fondo occorre tornare a sentire insieme che si appartiene ad un'unica realtà i workshop di domani sono sicuro che riusciranno a dare gli strumenti per tornare all'interno dei propri comitati io saluto tutti quanti voi lasciatemi salutare in particolar modo ancora una volta i volontari della Sardegna ma anche alcuni volontari in particolar modo quelli di Enna che sono venuti si sono presi l'aereo sono andati fino a Milano per venire quando comitati di regioni limitrofe non hanno mandato nessuno allora consentitemi che su questo sono così felice sono così felice che con l'entrata in vigore del nuovo statuto potrò sostituire quei presidenti che non fanno partecipare i volontari agli eventi e alle iniziative di carattere nazionale perché questo è anche il tema presidenti che pensano soltanto all'attenzione del bilancio che pure è importante guai se non si pensasse al bilancio guai se si creassero nuovi debiti però guai guai se non si ha la capacità di stare insieme perché non siamo le misericordie non lo dico in senso dispregiativo ma le misericordie sono n realtà autonome e indipendenti che si confederano questa da Ragusa a Bolzano è un'unica associazione se perdiamo questo tratto se perdiamo questo tratto se perdiamo questo tratto la nostra strada invece questo non sarà un salto sarà una caduta ma non sarà colpa di chi oggi è qui presente ecco perché dobbiamo tenere alta l'attenzione ed ecco perché sono grato ai presidenti che hanno votato lo statuto di avermi dato questo potere rispetto a chi diserterà le occasioni di incontro nazionale perché è una cosa che ferisce io come ha detto Patrizia con questo veramente concludo sono reduce da Sydney stare insieme a 189 società nazionali anche le più piccole hanno fatto un sacrificio sono venute a Sydney pur di avere quel momento in cui ci si confronta si leggono insieme i bisogni del pianeta si fanno delle strategie comuni si sta insieme si riflette su quelle che sono le nuove vulnerabilità lo facciamo a livello internazionale lo facciamo in maniera corale dobbiamo essere capaci di farlo di farlo a livello nazionale e di farlo a livello a livello comunitario questo in ogni ambito dobbiamo essere capaci di trovare dei momenti per stare insieme e riflettere questa è la grande sfida vera della Croce Rossa non soltanto andare in sede leggere i turni e tornare a casa ma avere delle comunità che ogni tanto trovano il momento per interrogarsi su quali sono i bisogni del nostro paese grazie mille grazie per essere venuti grazie di cuore a tutti per questo bellissimo spettacolo grazie grazie